Loro Riggio, capitano della Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia di Serie C, stasera innesima vittoria di questa stagione, non è stato facile contro Pizzo, che partita è stata capitano? No, non è stata facile perché abbiamo incontrato un avversario molto in forma e abbiamo dimostrato però di saper giocare, di saper fare il nostro gioco anche non avendo la testa a quella che sarà la finale della prossima settimana. È un impegno che comunque stiamo preparando bene già da questa settimana trascorsa, quindi abbiamo dimostrato di affrontare le cose volta per volta. Abbiamo vinto questa partita dopo quel set di svantaggio, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra giovane, sì, ma anche di personalità e che sa fare le proprie cose bene. Danilo Riggio, veterano giovane di questa squadra, 21 anni, classe 1994, però dà una vita sui campi di pallavolo e tante esperienze nonostante la giovanità da Danilo. Sì, per fortuna abbiamo un florido settore giovanile, soprattutto quella che è stata la mia squadra, abbiamo fatto mille battaglie, mille partite e comunque secondo me non conta l'età ma conta il numero di partite che effettivamente una persona fa. La società ci ha sempre dato la possibilità di disputare ogni tipo di campionato e quindi poi alla fine questi sono i frutti che raccogliamo. Hai accennato all'impegno di sabato prossimo, la Coppa Calabria di nuovo la possibilità di conquistarla per la seconda volta consecutiva come la Coppa Italia nella prima squadra, hai l'opportunità di alzarla per la seconda volta consecutiva, sarebbe una bella cosa, sarà come ogni finale una partita da giocare fino all'ultima palla? Assolutamente sì, sarà una partita a sé, comunque la partita dell'andata contro Praia non ci ha detto nulla per via del risultato alla fine, quindi sarà un incontro totalmente nuovo. È una finale quindi ce la giochiamo con tutte le nostre armi disponibili, certo vincerla sullo stesso campo per il secondo anno consecutivo, alzare la Coppa al cielo sarebbe una grande soddisfazione, ma noi faremo il nostro e poi vedremo come andrà.